Uno dei gran premi più rocamboleschi della storia della Formula 1, ragazzi miei, ricco di incidenti, errori, pioggia, safety car, ma soprattutto di emozioni a non finire, ne abbiamo viste veramente di ogni, ma alla fine, ragazzi miei, stava a dire Lewis Hamilton si aggiudica, Max Verstappen si aggiudica, questo gran premio di Imola, gran premio di Emilia Romagna, in una maniera di quelle esagerate, e mi è rimasto impresso nella mente, e lo ammetto anche nel cuore, quella aggressività, quella cattiveria con cui subito, in partenza al via, si è portato davanti a Lewis Hamilton, ciao e bella a tutti da me, mi piace per supportare i miei cose, ho eccitato ragazzi miei, non per Fernando Alonso, no, beh per le Ferrari, non ce li diamo con calma, mi piace iscrivetevi, attivate la campanella, fate la stessa cosa sul primo canale YouTube, poco fa è uscito il post partita, ovviamente di Atalanta Juventus, ma anche di Lazio Benevento, sul secondo canale YouTube, canale non, no, canale sempre de calcio, scusatemi, oggi è uscito il post partita di Milan Genua, terzo canale YouTube, canale non de calcio, prossima settimana sta per uscire un super video, trovate tutti i canali in descrizione oppure cliccando qui, mi raccomando, seguitemi. Se volete altre reazioni ai Gran Premi di Formula 1, mi raccomando, fatemelo capire con tantissimi mi piace su questo video, ok? Oggi non sono riuscito a fare la live reaction, sarebbe stato veramente impossibile quando ci stanno di mezzo anche le partite della Serie A, però mi raccomando, fatemi vedere il vostro supporto perché potrei fare altre live reaction. Detto questo, ve l'aspettavate l'errore di Lewis Hamilton? Onestamente no, però vi posso dire una cosa, io mi aspettavo la rimonta, e rimonta è stata. E se è giusto elogiare Max Verstappen per quel che ha fatto, perché oggi ragazzi miei ha vinto una gara che sicuramente non era semplice, ha dimostrato la Red Bull ovviamente di essere una vettura all'altezza, bisogna capire se sarà competitiva fino alla fine con le McLaren, però oggi gli hanno assolutamente dati i meriti. E poi, vabbè, diciamo che lo spartiacque della gara l'abbiamo visto, no? Bandiera rossa, gara ferma, quell'incidente, lo stesso Lewis Hamilton che fa, che commette quell'errore che rimette un po' la situazione in gioco. Poi ci sono ancora tantissime gare da vedere, di conseguenza mi riservo il diritto di iniziare a giudicare meglio questa Red Bull e anche in realtà questa vettura di Lewis Hamilton più in là. Per il momento io vi dico che, per quel che sto vedendo, sembrano due vetture che possono equivalersi fino alla fine della stagione, poi però sappiamo tutti quello che combina solitamente Hamilton, cioè è capace veramente di creare il vuoto dietro di sé. Dobbiamo parlare ovviamente anche delle Ferrari senza di mendicare, aspetta che prendo, voglio prendere i punti Formula 1, i punti totali accumulati, terminata dice ancora in gara, mannaia la miseria non me dà i punti totali accumulati con la gara dell'ultima settimana, non vedo se riesco a trovarla da qualche altra parte. Però rapidamente ragazzi dobbiamo parlare anche di Lando Norris su McLaren perché già lo aveva fatto vedere durante le qualifiche che poteva avere un buon passo, che poteva avere una vettura competitiva e così è stato. Perché io mi sbilancio e vi dico che probabilmente ragazzi miei, Lando Norris, non mi ricordo quanti anni c'ha, mo lo vado a cercare, non me posso ricorda tutto ragazzi miei, c'ha 21 anni Lando Norris ragazzi miei. 13 novembre 1999, sentiremo parlare tantissimo secondo me di questo pilota per i prossimi anni, per le stagioni a venire. E chi lo sa, c'è chi parla già di erede, di Lewis Hamilton, il paragone attualmente ovviamente è troppo grande, Hamilton ha vinto sette titoli mondiali, ha eguagliato Michael Schumacher e dovesse vincere quest'anno andrebbe addirittura a superare nella storia della Formula 1, diverrebbe il più vincente della storia. Diamo tempo a Lando Norris di esprimersi, il potenziale sicuramente c'è e dobbiamo anche parlare per forza di cose di Charles Leclerc e di Carlos Sainz che alla fine ragazzi, diciamo che la Ferrari ha fatto il suo, hanno fatto quello che potevano fare ed era bene o male quella la posizione di classifica che mi immaginavo. Mi immaginavo, leggermente fuori dal podio, io mi auguro che la Ferrari durante la stagione con lo sviluppo della vettura, piano piano possa provare a colmare, non dico del tutto il gap perché la vedo abbastanza difficile, devo essere onesto da ferrarista secondo me, colmare il gap con le Red Bull e le Mercedes. È abbastanza difficile però iniziare a vedere qualche podio, iniziare a rivedere questa rifondazione e ricostruzione della Ferrari partendo dai giovani, no? È stato mandato via anche Sebastian Vettel per un motivo, cercare di ridare via ad una continuità ripartendo dal basso se così possiamo dire. Siamo un po' stanchi noi tifosi della Ferrari perché chi segue la Ferrari da tempo immemore quando Michael Schumacher e Barichello se vinceva, se vinceva, se vinceva, purtroppo quei tempi sono passati. Io onestamente tutti gli anni dico dai questo potrebbe essere l'anno buono, questo potrebbe essere l'anno buono, poi te svegli tutto sudato e in realtà ti rendi conto che ci sono delle vetture superiori a cui devi portare assolutamente rispetto. Non lo so se possiamo, secondo me siamo la terza barra quarta potenza di questo mondiale, quella è la dimensione delle Ferrari, poi ovviamente spero di sbagliarmi. Complimenti ancora a Verstappen, ripeto perché secondo me oggi non solo ha fatto quello che doveva fare ma non era una gara semplice, anche il fatto che la gara è stata fermata dal punto di vista mentale per un giovane, non ve vado a vedere pure quanti anni c'ha Verstappen che non mi ricordo, Max Verstappen, ma è giovane pure lui ovviamente, 23enne classe 1997, non è facile tenere la pressione quando sai che comunque ci sono piloti più esperti che magari la pressione la reggono meglio, ma in questa Formula 1 credo che lo abbiamo capito tutti quanti. Non esistono veterani e giovani, come dire, inesperti, tranne qualcuno, non voglio far nomi, ce ne sono alcuni che mostrano sicuramente inesperienza, però quelli che sono competitivi ragazzi macinano, macinano e questa è una cosa che mi fa ben sperare anche per il futuro della Formula 1. Due paroline ragazzi su Fernando Alonso le devo assolutamente esprimere perché sapete che io lo tifo e non la tifi, lo tifo e purtroppo secondo me questo è il potenziale massimo della Renault, della Alpine, io la chiamo, ma tanto quello è praticamente, sperando che Alonso, anche se ormai con l'età è abbastanza avanzato, possa lottare per traguardi più importanti, ma la vedo veramente difficile e anche Ricciardo alla fine non ha fatto sicuramente una cattiva gara, Lance Stroll che si porta a casa se non sbaglio la settima piazza, su Aston Martin non è male e Gasly ottavo con Alfa Tauri, Kimi Raikkonen zitto zitto con l'Alfa Romeo si prende la nona piazza e Ocon che va a chiudere praticamente la zona punti con Fernando Alonso che purtroppo a me non riesce a portarsi a casa neanche un punticino da questo gran premio. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili sociali sono ancora preso in descrizione, contenuti consigliati, scappo perché tra poco comincia la Roma. Ciao ragazzi!